E c'è soprattutto l'articolo 6 che va a specificare come si determina il reddito dal lavoro dipendente ai fini contributivi. Questa è una norma fondamentale perché da questa norma partono poi tutta una serie di situazioni e soluzioni. Abbiamo poi un'altra norma, questa è quella più utilizzata dall'Ips, veramente una cosa ridi, ma ne sappiamo qualcosa, vero Tania? Coma 1175, articolo 1, legge 296, 2006, senza mezzi termini, la finanziaria del 2006. Io quando l'avessi, quando l'avessi...